come si fa la rivoluzione? non puoi sapere come si fa ahhh? eeeh eeeh si voi che non sapete la rivoluzione eeeh ah donga prima di tutto se vengono duri alle canne e' vero e' c'e' lei se vengono tutte si canne e lo mettono in un anno qui ci sanno e' scusa ma sanì capo ospi oeeh ooooh hai buon fuggato tutto il mio lavoro ahahahah dai povero ahahahah ho fatto il mio lavoro Ehi, stiamo provando qua, caducano? Ah, e poi c'è uno capo, ma... Eh, che sarebbe buono di cercare, e mettiamo questo capo a fussire. Masaniello, ma che stai dicendo? Dai, spiegare, tagliate la capa, ma che ho visto il passo che non mi faccio di parlare. Masaniello, perché lo sanno già, eh?